Il commento alla stampa del giorno si chiama Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV che va in onda dal lunedì al sabato alle 7 del mattino in diretta. Ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Cominciamo dal santo del giorno. Oggi è Santa Gertrude e il sole sorgerà tra pochi minuti alle 7.05 e tramonterà alle 17.44. Le giornate dunque si allungano, il sole splenda, arriverà l'anticiclone che porterà anche il caldo nei prossimi giorni. Intanto per oggi la protezione civile delle Marche con il suo consueto bollettino quotidiano prevede nella regione Marche un cielo parzialmente nuvoloso con alternanza di nuvole medio-basse. Le temperature sono in aumento nei valori massimi, in diminuzione quelle della notte. Domani, venerdì 19 febbraio, il sole ancora con delle nuvole in transito, temperature in lieve aumento le massime, stazionari le minime. Sabato 20 invece il sole splenderà su tutta la regione Marche, soprattutto sulla costa adriatica. Ancora tempo stabile, come dicevamo, nel corso del fine settimana. E allora andiamo subito a leggere i giornali, il resto del Carlino, Corriere Adriatico. Cominciamo dall'edizione di Pesaro del Carlino. La fotonotizia è per lo sport, vi se fanno stessa malasorte, rimontate battute da Triestina e Cesena nei minuti di recupero. Poi gialli o arancioni, siamo in bilico, basterà la blindatura di Ancona per salvare le altre province. Ecco perché possiamo sperare. Il Corriere Adriatico, Mancini testimonia, la scelta è ok, accordo biennale con la regione Marche. La cronaca da Pesaro, Baldoria notturna, tutti multati. I vicini chiamano per schiamazzi i carabinieri, scoprono un assembramento. C'è stato anche un arresto, attesa per il nuovo monitoraggio delle regioni. Le Marche rischiano di tornare in zona arancione. Le Marche del Mancio, la fotonotizia del Carlino di Ancona. Questa volta la scelta è marchigiana. Per quanto riguarda il turismo, lo Iesino CT della Nazionale è il nuovo testimonial. Mentre inglese e brasiliana, incubo varianti. La prima è diventata la prevalente nella provincia di Ancona. La seconda si sospetta essere nel Fabrianese. E allora cominciamo questa mattina la rassegna partendo proprio dalla notizia che lo Iesino Mancini sarà il testimonial della regione Marche. Mancini, porto le mie Marche nel mondo. Titolo da pagina 22 del Carlino di Ancona. Il CT della Nazionale Nuovo Testimonia. L'ha firmato un accordo per quasi tre anni, spot TV, durante le partite dell'Italia. E sentite che cosa dice il papà Aldo di Mancini. Le Marche non vogliono più fare la panchina alla Toscana, sintetizza così papà Aldo. Siamo secondi dietro a loro per turismo, dicono i libri di storia. Ora li sorpassiamo. E ci sono già i primi appuntamenti. Appunto il tecnico Iesino girerà parecchio il mondo con la sua Italia nel periodo dell'accordo. E quindi porterà con sé anche il volto delle Marche. A giugno ci saranno gli europei itineranti con la prima gara propria a Roma. Poi le Final Four di Nation League nel nostro paese e i mondiali in Qatar. E il Mancio sostituirà lo squalo Vincenzo Nibali, il corridore scelto a luglio 2020 per scalare i monti marchigiani e andare fin sulla costa. Allora andiamo a vederli i vecchi testimonial. Qualcuno forse li si ricorderà. Sicuramente quello che fece più parlare è Dustin Hoffman con quella scelta appunto di prendere questo attore hollywoodiano che recitò anche nei teatri eccetera e portò le Marche in questi spot in giro per il mondo. Poi Vincenzo Nibali, la fuga in bicicletta, l'attore marchigiano ancora Neri Marco Re, Valentino Rezzali, un'altra grande Iesina e naturalmente Valentino Rossi il campione pesarese. Il papaldo dicevo di Mancini dice mio figlio vincerà anche questa partita. Poi c'è un'altra notizia invece che farà sicuramente discutere ma di questo ne abbiamo già parlato anche in altre situazioni ovvero le multe. Quando prendiamo le multe sicuramente a nessuno piace prenderle anche se abbiamo torto ma questo è un altro discorso. Il discorso questa mattina invece è sul tutor tra Fano e Pesero che ha pensate già in soli 40 giorni totalizzato più di 2500 multe, più di 2500 verbali. È un tutor che sanziona la velocità media che nel tratto da Fosso Signore fino a Pesero deve essere, non deve superare i 70 chilometri orari. In cassa da 100 mila euro al mese e Amerigo Varotti che è presidente di Confcommercio racconta a Roberto Damiani ne ho prese 12 in due settimane e lui dice non è possibile se si supera anche di un solo chilometro la media dei 70 chilometri orari scatta la multa ma non è normale se si vuole far cassa così è troppo facile, anzi è senza ritegno dice Varotti. Capisco l'estate con la gente che attraversa tutte le ore, la statale con ciabatte e canotti, andare piano è essenziale ma d'inverno, d'inverno con la strada vuota è accanimento sulla gente che usa la macchina per lavorare. Io ho pagato tutto per circa 800 euro dice ancora Varotti ma lo ritengo una vergogna. Come si fa a ricordare che bisogna andare a 70 stretti in una strada larga e vuota? In più la segnaletica è davvero molto confusa, quasi ingannevole e come non dare ragione ad Amerigo Varotti? In questo caso davvero ha ragione. Ora toglierlo del tutto d'inverno forse può essere eccessivo, la sicurezza è sempre una cosa importante e in Italia se non ci sono questi sistemi poi si fa sempre i furbi, però 70 è davvero molto poco. 90 in una strada dove davvero la domenica mattina per esempio non c'è assolutamente nessuno, andare ai 70 è una cosa che non ha senso. Mezza Italia rischia di tornare a Rancione, tempi e impatto economico, le nuove regole. Fontana chiede al comitato tecnico scientifico di anticipare le scelte in attesa della cabina di regia per valutare le ricadute della chiusura. L'allarme lo ha lanciato anche l'Istituto Superiore di Sanità, però attenzione guardate qui cosa dice l'Istituto Superiore di Sanità. Allora, dice che il Covid con la variante inglese fa sviluppare una malattia più grave con maggiore rischio di ospedalizzazione e di decesso. Inoltre, si sottolinea, la maggiore trasmettibilità della variante inglese si traduce in un maggior numero assoluto di infezioni, determinando così un aumento dei casi gravi. Ora, questo chiaramente per chi segue la rassegna stampa tutti i giorni ricorderà benissimo quello che invece è stato detto ieri a proposito di questa variante inglese. Clementi, che non è l'ultimo arrivato, ieri diceva l'esatto contrario di quello che ha detto e che dice oggi l'Istituto Superiore di Sanità, che non è più grave dell'altro del Covid europeo, di quello che abbiamo imparato a conoscere, che l'unico dato in questo momento certo è che si trasmette più velocemente. Oggi cosa leggiamo? Cose completamente diverse. E di questo noi siamo ormai abituati, di questo oggi è giallo, oggi è nero, domani è nero, poi di altri colori, insomma, di questo modo di esporre le cose, di tutto il contrario di tutto, siamo ormai pieni, non ne possiamo più. Qualcuno, credo, spero, Draghi, ma non credo che avrà la forza di farlo, si metta d'accordo, decida chi deve parlare, lo faccia una persona, un esperto, come si fa in qualche paese, adesso non ricordo quale, ce n'è uno in cui parla solo un ministro, parla solo una persona, tutti gli altri stanno zitti, e quello è, basta, perché altrimenti così non ci si capisce più niente. I numeri in agrodolce riportano intanto le marche sul filo dell'arancione, pressione sugli ospedali, sopra la soglia, quattro province sono sotto controllo, domani c'è un nuovo incontro, perché domani è venerdì, sapete che il venerdì si fa un attimo il punto della situazione, si decide poi la colorazione di ogni singola regione. E allora noi rischiamo l'arancione, e questo già lo sapevamo. Intanto però a pagina 3 del Corriere Adriatico vi segnalo un'intervista questa mattina con la dottoressa Lucia Di Furia, che è dirigente del Servizio Salute ad Interim dell'Agenzia Regionale Sanitaria, e con la Di Furia diceva, vabbè, con Roma ci sentiamo sempre, se non hanno voluto zone rosse questa prima misura può bastare, e dice sì, siamo sotto pressione, indubbiamente, ma il sistema sta reggendo. E alla risposta del collega del Corriere dice, allora i nostri ospedali hanno visto di peggio. Sì, risponde la Di Furia. Ricordo che abbiamo raggiunto tassi di occupazione delle terapie intensive superiori al 40%, ma ora siamo al 33% e ricordo che il limite ritenuto da attenzionare è del 30%. Pertanto la situazione è preoccupante ma sotto controllo. Inoltre la pressione sui pronto soccorso regionali odierna non è particolarmente alta. e alla domanda qual è l'appello che si sente di lanciare ai marchigiani, e la risposta la sapete già, la sappiamo già. Resta l'appello di rispettare tutte le norme di sicurezza, evitando spostamenti non necessari, indossando le mascherine, mantenendo le distanze di sicurezza. Il Covid si è fermato ad Ancona, titola ancora il Corriere Adriatico. I contagi hanno ripreso il volo. Per gli esperti, la variante inglese ormai è prevalente nella provincia di Ancona. L'incidenza dei tamponi infettati in regione è risalita oltre il 20%. Ieri altre 17 vittime. Per quanto riguarda invece il vaccino, dal 20 di febbraio, tra qualche giorno, a Pesaro inizierà la vaccinazione di massa, un po' in tutta la provincia di Pesaro Urbino. A Pesaro inizierà al centro sociale della Celletta, che da qualche giorno è un po' un cantiere aperto, come scrive Simona Spagnoli sul Carlino di Pesaro. Nella prima giornata di vaccinazione di massa, il siero sarà inoculato a 670 ottantenni. Sono quelli che si sono prenotati, evidentemente. Praticamente di questi 670 ottantenni, nel primo giorno dovranno vaccinarne uno ogni 10 minuti. Sabato ci sono 672 anziani in lista a Pesaro, lunedì 22 ce ne saranno invece 342 a Fano e 342 a Urbino. Martedì 23 si ricomincia con altri 672 a Pesaro, mercoledì altri 342 a Fano e così ad Urbino. Le giornate vaccinali sono alternate per un problema di carenza di personale. Sul fronte scolastico, invece, a scuola qualcuno sta pensando di mandare gli studenti in presenza fino alla fine di giugno. Per tutto giugno, con doppi turni, si legge sul resto del Carlino, pagina nazionale. L'obiettivo è recuperare il tempo perduto. Il Governo è già al lavoro. Previste vaccinazioni di massa per docenti e strutture mobili di pronto intervento per contenere i contagi. Intanto a Pesaro, Baldoria, notturna, dentro casi. I vicini chiamano i carabinieri, tutti multati. I carabinieri intervengono in via del Monaco, scattano le sanzioni per l'assembramento e la Prefettura prosegue intanto nell'invio di ingiunzioni per i verbali che non sono stati mai pagati. Ancora dalle cronache pesaresi, a pagina 7 del resto del Carlino, incontro gay con sorpresa, dammi 1600 euro. Di fronte al rifiuto di pagare, l'amico gli ha preso le chiavi della macchina. Beh, insomma, l'amico fino a un certo punto gli ha preso le chiavi della macchina. Poi l'arrivo del 112, ieri processo e condanna per quella tentata estorsione. Due botti, invece, si sono sentiti l'altra sera nella zona del campus a Pesaro. Due botti che agitano le sere di carnevale. Sentiti in diversi quartieri, sul posto anche una pattuglia della polizia. Due boati distinti, belli forti, a distanza ravvicinata, si sono uditi in mezza città di Pesaro e hanno fatto scoppiare letteralmente e materialmente un piccolo caso. Perché li hanno sentiti un po' ovunque e soprattutto perché non si riusciva a capire né da dove provenissero questi due boati, né la loro origine. In tanti hanno pensato appunto a un incidente, un'esplosione, fuochi d'artificio un po' più potenti. Invece la Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore di Lucrezia di 57 anni che per due anni ha evaso il fisco al fisco circa 500 mila euro. Non aveva presentato né 7,30, ne aveva pagato l'IVA, insomma sequestrati conti e auto, sigilli su vetture, scooter e terreni agricoli, ma mancano ancora 100 mila euro. Andiamo a vedere invece la pagina di Fano del Carlino, così come del Corriere, perché è un argomento ed è una notizia importante. Un miliardo per l'elettrodotto che però non si vede. Parte da Cepagatti, si immerge poi in mare e termina a Fano. Vedete la cartina qua sulla destra? È un elettrodotto, questo qua, che passa praticamente sott'acqua, sotto il mare. L'ha voluto Terna per incrementare il transito energetico. Le aziende che hanno bisogno di energia, ma che attualmente con le infrastrutture attuali ne hanno poca, ovviamente esultano. E tra queste c'è anche la Profilglas Esulta Paci, titola Il Carlino, aspettiamo da almeno tre anni. Parte la progettazione di Adriatic Link, ecco il titolo dal Corriere di Fano. L'elettrodotto che garantisce le aziende, presentata l'infrastruttura sottomarina di Terna, che unirà Marche ed Abruzzo, un investimento da un miliardo di euro. Ed è un'opera strategica per il Centro Italia. Il dirigente della società dice permetterà il processo di decarbonizzazione. Andiamo adesso invece sulla pagina 24 del Corriere. Anche qui la cronaca aveva evaso il fisco perché c'era la crisi. Sigilli a beni per mezzo milione di euro. Blitz della finanza che sequestra ad un imprenditore di Lucrezia. I soldi sui conti. Due terreni e cinque veicoli. Accusato di aver distrutto i libri contabili nella vendita di legnami e prodotti elettronici. Accordo quadro per i lavori pubblici, nodi, professionisti e piccole aziende. Sempre da Fano. Fano città ideale lancia l'annuncio. La CNA scende subito sul piede di guerra. Baldarelli protesta. Si estromette un pezzo del sistema economico. Seri aveva dato la sua parola. Poi la quaresima al via. Il vescovo riflette sulla fragilità. Trasarti assente per il Covid. Dal rito delle ceneri evidenzia il bisogno dell'altro. Da Valefoglia nasce il portale del turismo. Valefoglia che si mette in vetrina. Ucchielli. Il sindaco presenta la nuova iniziativa di promozione e marketing della città. E ancora sulla pagina di Urbino. Anestesista dirottato a Civitanova. L'Asur mette in ginocchio Urbino. Il segretario PD denuncia forti disagi nel reparto di rianimazione. Situazione dice incerta. E medici in fuga. Incidenti di caccia nel 2020. Sensibile calo dei decessi. Minore anche il numero dei ferimenti. L'analisi è dell'Università di Urbino. Carlo Bo. Valmetauro. Emergenza per il servizio idrico. Da Fossombrone. Lato cerca di correre i ripari. Convocata l'Assemblea dei Sindaci. I cambiamenti climatici aggravano la fragilità del sistema. Il direttore Ranocchi segnala disponibilità di finanziamenti statali per integrare gli impianti. Partito furgone con gli aiuti per i profughi di Lipa. Raccolto l'appello lanciato da Auser e CGL per il campo in Bosnia. Volevano chiudere l'ospedale. Siamo sulla pagina della Val Cesano del Corriere. I lavori erano il cavallo di Troia. L'assessore regionale Baldelli chiama in causa Ceriscioli. Politica subdola rattristrato da chi l'ha sostenuta a Pergola. Come altrove ridaremo alla collettività una struttura a norma dotata di pronto soccorso. E adesso invece andiamo a vedere l'altra pagina, quella del resto del Carlino, a pagina 17. Sandro Franceschetti racconta la storia di un mondolfese che è stato assessore, ma adesso è cameraman. Ed è un cameraman di alto livello. Davide Caporaletti, qui lo vedete con la campionessa Marta Bassino, oro nel parallelo. Ora, dalla giunta di Mondolfo a Cortina D'Ampezzo, Davide Caporaletti, prestato dalla politica allo sport. L'assenza del pubblico, dice, il cameraman si sente tantissimo, fa male a noi, ma fa male anche agli atleti. Ma le misure di sicurezza qui sono rigidissime, tamponi praticamente ogni tre giorni. Ancora da Urbino, lavori in ospedale, un ambulatorio se ne va. Trasferimento temporaneo a Fossombrone per chi deve fare medicazioni post-operatorie. L'assessore alla sanità del comune di Urbino Foschi, dice, l'ospedale è in piena attività. Calati i positivi, riprese le attività, siamo concentrati adesso sui vaccini, mentre il PD è preoccupato per la rianimazione. Accolto l'appello, arrivano i gazebo, protezione civile di Ancona, sempre a Urbino, e un ex alunno, si mobilitano per donare alla scuola del libro quanto richiesto. Avevano richiesto questo gazebo, cioè un gazebo, e gliel'hanno mandato. Ci ha pensato un ex alunno e anche la protezione civile di Ancona. Da Senigallia, invece, l'idraulico che si veste da ladro e ruba i gioielli, l'uomo di 45 anni di Montemarciano, era andato in una casa con un collega per effettuare dei lavori, è stato denunciato dai carabinieri. E poi è morta Paialunga, aveva sconfitto il virus. La signora Luciana aveva 89 anni, nella sua famiglia la storica proprietaria dell'hotel Nettuno. Andiamo adesso, invece, sulla pagina dello sport. Il Fano sciupa tutto, Cesena passa di rigore. I Granata in vantaggio con Marino al 29esimo, ma incapaci di gestire, raggiunti da Paterman all'80 e superati allo scadere da Russini. Dunque, Cesena che vince 2-1 contro il Fano, Fano che ha giocato in casa. E non è andata bene, come dicevamo anche alla Vispesero. Una bella vis beffata dai suoi limiti a Trieste, vis che perde 3-2 contro la Triestina, brava nel primo tempo ad andare sul 2-0, con Marchi e Gucci, troppo arretrata nella ripresa quando ha concesso la rimonta in extremi. Se con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa, grazie per averci seguito. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con l'informazione alle 20.30 e poi adesso Riccardo ci dirà anche qual è il programma in onda dopo il telegiornale. È normale programmazione. Normale programmazione di Fano TV. Bene, grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.